C'è una caccola gigantesca Ah, orca puttana, lo sapevo io e dovevo cominciare subito così Chifoso, maledetto Bene ragazzuoli, qui appunto i nomi Ed eccoci qui tornando in questo nuovissimo video Siamo tornati con una bella challenge Insieme a chi? Insieme a chi? Al cowboy più importante Ma che fortuna, insieme al cowboy Comunque ragazzuoli, oggi che cosa andiamo a fare? Ci sono un paio di... Cagne Sembra abbiano un'età Lo solito l'abbiamo visto dal vostro caro Dexterigno Che sono del 2010 e sembrano del 1991 Comunque ragazzi, ora faremo una serie su questo tipo di video Alla fine, su Instagram, io sulla mia storia metterò una foto Dove voi dovrete decidere quale penitenza far fare a me o a Carlo Chi andrà a perdere farà la penitenza Quindi mi raccomando, qui sotto in descrizione trovate il link di Instagram E quindi mi raccomando, bloccate il mio video, andate su Instagram Seguitemi e poi tornate qui e se lo utilizzate Allora, Carlin, allora Vediamo la prima foto Ma che ne male questo video La prima foto, ok? La vedi? Ah, sì La filippo negra Perché? Non è negra Occhi azzurri Però comunque C'ha il naso da bambina E questa cosa mi mette timore Ah, vabbè, aspetta C'è il coso che ti dice Deve Deve essere 14 anni Chi è che lo dice, però? Ma no, per me ce n'ha tipo 25 No, 25 è esagerato, dai Vabbè, per me sì Io dico, io dico 18 No, 25, dai, Carlin, che cazzo? Ma che bello, è una vecchia Vabbè, vecchia Ma non ti allargai, io ce n'ho 23 Carlo, sei sicuro di quello che stai dicendo, eh? Sì 1, 2, 1 12 anni! 12! No, no, no 12 anni! Non è possibile! Ma è una farsa, no? Sì, no, no Basta, finisce quel video per fake di video Allora quella dopo ce n'ha 6 Questa, questa per davvero ce n'ha 20 anni, rega Cioè, se ce n'ha meno di 20 anni Io mi sparo su una tibia Io non lo so Non lo so Ho paura di rispondere Tu che dici? Io dico 20 Io dico 20 Eh, ho capito Se quella 12, questa ce n'ha 14 Io dico 14 No, io dico 20 Cioè, sembrava pure mezza rifatta Che vuol dire? Che vuol dire? La scocca del coso in fronte La scocca della minorena 24, eh, beh, la Carlin, porca puttana T'ho detto, dai, esu 14 Ma dai Ho capito, ma quella prima a me mi sembra Ma io l'ha rifatta Ce l'avevo al naso rifatto Ma che ne l'hai vista sta zussa Numero 3 Dai, questa 20 Questa, no, no, questa sembra No Questa io ho 18 anni Io ho 20 Io ho 20 Giriamo subito Veloci, veloci 21 21 21 Eh, quasi Sto avvicinando più lui 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 Allora, già che se fa la foto del cagnolino Guardi Che è una cagna mi rorenne Stratosferica è 2000 2000 proprio Quindi io gli ho 17 anni Io ne ho 13 Porco dio, 13 anni Come fa? C'è 13 anni Guarda 12 Quella prima Vuoi dire ragione 17, te? 14, ci hai detto Io 13 13, il mure E girava 15 15 È più vicino Eh no, stiamo pari 17 e 13 Ah, ok, uguale Eh sì Porca dio 14, parcaio Allora Questa Ci stai? Non ci stai? No Allora, non ti mettere paura Alla prima che trovi Perché ti metti No, questa c'ha 40 anni Questa c'ha 2 figli e 5 nipoti Dico 25 Ah, oddio Questi 23 Dico io Perché qui va tutta di basso Io non lo so 21 Porca troia Oh Massa che mostro della natura Che sei Ma come ti chiamano Harry Potter Ormai ho capito Che devo mettere 10 anni in meno A quello che penso io Allora, questa 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 è una parempata Marina Banffi La ragazza di Stephanie Però Sì, però Mi faceva 16 anni Te dici 16 Io dico sì 17 17 Eh, vabbè, vai E che cazzo vuoi, oh Ma non ho capito 17 17 anni Sono un po' zio rara Non dico più per primo dettaglio Ma questo l'ho già vista Ma che è? No La terza, la terza Oh, immagini Ma che se mi sorella Vabbè, io dico 22 Io dico 21 Oh, sei sempre vicino Oh, non mi dico Allora, aspetta che dico io Ero un per cazzo Sei proprio una dellina Uno Vai 19 A mostro raro Quindi stavamo 5 a 3 Mamma mia Questa, questa c'ha C'ha 13 anni Ah, 15 15 No, vabbè, sì Forse te lì dice trovo Io dico 14 Sì, vabbè No, vabbè Uno 13 C'ha provato Non è davvero Oddio, santissimo Oddio Ma non è possibile Ma non è possibile Ma che beveste a voi Ma io Se fossi tu padre Io verrei teppi Erei accintato in bo Vabbè, però Perché? Ma dai Ma so' foto A 13 anni da cagna A 13 anni giocavo A goccia Con le carte dei Pokemon Vabbè, il quinto Quello dopo è onesto Dai, cioè È normale Sta lì Quella dopo purella Che gli dici Questa c'ha 11 anni però Sì, pure per me 12 anni 12 12 Porca troia C'ho azzeccato Questa 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 è A fregatte proprio Questa è proprio a fregatte Lo sai perché? Perché c'hai i labbroni Non è esperta Devi far prima di sovracciglia Con sti occhi Guarda che sovracciglia Di mortacci qua Ha fatto Un frontale con una rondine Che ha fatto 16 anni No, stavo a Dio Vabbè Vabbè Può di pure te 15 15 15 No, no Se c'ha 15 anni Veramente mi sparo sulle palle Vai 16 anni Uh 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 Allora Questa qui Per me è 18 Ma lo sai che c'è? Sembra truccata Cada Eh però è photoshopata Quindi puoi dire Che di suo Non c'aveva tanto de bello Esatto, capito? Vai Tu è 18 Io è 21 14 14 Ma che porco Dio Mi stai a dire No, regà No Per favore Questa veramente ha 14 anni Se qualcuno la conosce Grazie mille 7 7 5 Questa qui 15 16 15 Per me è più grande Invece Io gli dico 17 Troppo seria Capito Se vedi che è un po' più matura Rispetto alle altre 16 15 Ah 15 Vabbè dai Pari Pari 7 7 5 Ancora Questa c'ha 11 anni 12 dai Io dico sempre 15 Io dico 12 12 anni 18 18 anni Ma che cazzo Mi stai a dire Tu vedi che sono sfalsate le cose Ma questa che sembra una ragazzina Questa che sembra che c'ha 25 anni Questa qui c'ha 18 È quella sopra Esatto No regà aspetta fermi tutti La 10 La 10 La 10 C'ha 25 anni dai Non scherzare C'ha pure rifatta Noi dice Sì ne è finta 23 anni Io dico 24 Io do 24 Io 23 Io 23 Io 24 vai E me 23 19 19 No per Dio Se mi scena io Madonna Santì Però No dai Questa davvero Assumì a una che conosco La faccio conoscere Qualcosa Guardate Questo video finisce nelle mani sbagliate Esatto Amori No vi amiamo con tutto il cuore No scherza Quindi ragazzi Questo video Era diretto alle nostre ragazze Che noi amiamo con tutto il cuore Quindi mi raccomando Anche voi Qui sotto Aiutateci In qualche maniera Mi raccomando Confidiamo in voi Vi amano Non scrivete così Hashtag vi amano Comunque ragazzi Qui sotto in descrizione Trovate il link Del grittone Vi pone Mi raccomando Andateci tutti quanti Andateci perché Se no lui viene E che vi fa Vi spezza le ossa E niente ragazzi Come sempre Ancora qui sotto in descrizione Il link di instagram Mi raccomando Seguiteci Tutti quanti lì Mi raccomando E' bella per voi E' bella per il grittone E' bella per Le cagne Ciao